Ciao, ti do il benvenuto su Infemmat. Oggi ti propongo un semplice quesito di geometria piana. Abbiamo un triangolo rettangolo di colore blu, di area 10 metri quadrati, iscritto in una semicirconferenza di colore bianco. Anche sui due cateti del triangolo sono state costruite due semicirconferenze che individuano, insieme alla semicirconferenza costruita sull'ipotenusa, le due mezzelune rosse che vedi in figura. Riesci a determinare la somma delle aree delle due mezzelune rosse? Ti consiglio di mettere in pausa e di provare a risolvere tu il quesito. Ci sentiamo dopo la sigla per la soluzione. Com'è andata? Sei riuscito a rispondere al quesito? Fammelo sapere nei commenti. Io l'ho risolto in questo modo. Per prima cosa ho disegnato l'intera circonferenza che ha per diametro l'ipotenusa del triangolo blu. Successivamente ho colorato in verde la semicirconferenza sotto l'ipotenusa e in giallo i due segmenti circolari che hanno come basi rispettivamente i due cateti. Inizialmente ho trascurato i due segmenti circolari gialdi e ho preso in esame solamente le tre semicirconferenze costruite sui due cateti e sull'ipotenusa. Apriamo ora una piccola parentesi sul teorema di Pitagora. Senza utilizzare alcuna formula, in soldoni il teorema di Pitagora dice semplicemente che in un triangolo rettangolo l'area del quadratone rosso è uguale alla somma delle aree dei due quadratini verde e blu. Non tutti sanno però che il teorema vale anche se, al posto del quadrato, utilizziamo un qualunque poligono regolare, ad esempio un triangolo equilatero, un quadrato appunto, un pentagono, un esagono e così via. Il teorema di Pitagora è valido anche se utilizziamo tre semicirconferenze. Se vuoi puoi verificarlo anche con i calcoli. Come vedrai fra poco, la somma delle aree delle due mezze lune rosse è variabile ma si mantiene sempre uguale all'area del triangolo rettangolo blu. Osserva ora con attenzione la figura. L'area della semicirconferenza verde, per il teorema di Pitagora, è uguale alla somma delle aree delle due semicirconferenze rosse, ed è dunque uguale alla somma di quattro aree, le aree delle due mezze lune rosse e le aree dei due segmenti circolari gialli. L'area della semicirconferenza verde, però, è anche uguale all'area della semicirconferenza gialla, che contiene al suo interno il triangolo rettangolo blu, ed è dunque uguale alla somma di tre aree, le aree dei due segmenti circolari gialli e l'area del triangolo blu. Sottraendo ora dall'area della semicirconferenza verde le aree dei due segmenti circolari gialli, otteniamo dunque la somma delle aree delle due mezze lune, che è anche uguale all'area del triangolo rettangolo blu. Riepilogando, la somma delle aree delle due mezze lune rosse è uguale all'area del triangolo rettangolo blu, ed è dunque uguale a 10 metri quadrati, e questa è la risposta al nostro problema. Questa proprietà è valida per ogni triangolo rettangolo, e può essere generalizzata con quattro mezze lune, al rettangolo e al quadrato. Detto questo, non dovresti incontrare alcun problema nel risolvere questo nuovo quesito. Fammi sapere nei commenti se sei riuscito a risolverlo. E se il video ti è piaciuto, ti invito a lasciare un like, a commentarlo, a condividerlo con gli amici, e, se non l'hai già fatto, a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti aspetto nel prossimo video. Ciao! 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 Ciao!